Con Toto Forrai prima da capitano in Lega 2, con una bella vittoria, soddisfatto immagino? Sì, 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 è importante da vincere, abbiamo vinto, quindi siamo tutti contenti. Verona è stata attaccata a voi per tre quarti, poi nell'ultimo periodo, bravi voi in difesa, loro si sono un po' smarriti in attacco e lì lo scatto decisivo. Sì, loro all'inizio avevano ritmi altissimi, noi cercavamo di starli dietro, dopo alla fine si è visto che noi eravamo messi un po' meglio fisicamente, perché alla fine abbiamo tenuto meglio, quindi mi sa che quella è stata la differenza. Senti Toto, da capitano cos'è cambiato? Tutto uguale a prima oppure? No, tutto uguale a prima, solo devo dire all'inizio che sono capitano e basta, dopo tutto uguale. È solo nel momento in cui si fa l'appello, adesso a Venezia contro una squadra che ha vinto a Veroli, quindi subito un testo importante per misurarvi la febbre e subito su un campo difficile. Sì, 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 Venezia ha uno squadroni, ha fatto la squadra per salire, quindi noi ce la metteremo tutta domenica prossima. Dalla prossima in casa con Rimini e anche con tutto il palazzo a tifare per voi. Sì, 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 lo spero tanto, oggi c'è stata tantissima gente, sono molto contento e vabbè, con Torrimini ne aspetto il pieno assoluto. Va bene, allora bocca al lupo, grazie.